iniziamo a sporci al sole che bello ma prima dobbiamo fare bella la pelle e poi proteggerla con cura prima cosa da fare alleggerirla dalle tossine accumulate due metodi infallibili aiutare il sistema linfatico e liberare i pori della pelle così eliminiamo tutte le scorie che limitano la luminosità ogni mattina oppure ogni sera prima della doccia spazzoliamo la pelle con una spazzola per il corpo ma asciutta seguiamo la direzione che va dalle estremità verso il cuore poi facciamo la doccia e idratiamo la pelle con una crema naturale va bene il gel di aloe o gli oli vegetali come mandorle o jojoba per proteggere la pelle applichiamo un solare su viso collo decoltè e mani anche quando non vogliamo prendere il sole ma siamo semplicemente all'aperto e ma che esagerata devo avere sempre un solare con me adesso io faccio così perché i raggi sono molto intensi e possono danneggiare la pelle va bene anche assumere beta carotene e omega 3 per rafforzare la pelle e farla diventare radiosa per tutta l'estate se ami la salute naturale metti un bel mi piace condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao